Musica Bentornati a Zona Cisle, oggi siamo con Norberto Pandolfi, responsabile dell'Inas Cisle di Lecco. Benvenuto Norberto. Benvenuti. Oggi parliamo con Norberto di Ape Volontaria. Che cos'è l'Ape Volontaria? È un meccanismo introdotto dalla legge di bilancio 2017 che prevede la possibilità per i pensionati, per alcune persone, di anticipare la data di pensionamento. Quindi di norma la data di pensionamento di vecchiaia è a 66 anni e 7 mesi, l'Ape Volontaria prevede la possibilità di anticipare a 63 anni la data di pensionamento. È un meccanismo introdotto in via sperimentale fino al 2018 e dà la possibilità quindi tramite un prestito, perché in questo caso non si parla più come si faceva prima con l'Ape Sociale, di un intervento dello Stato e di conseguenza un meccanismo di sostegno al reddito, come era definito l'Ape Sociale. Questo è un prestito vero e proprio, quindi il richiedente deve praticamente chiedere un prestito e con questo prestito anticipa la data di pensione e potrà avere un anticipo di 3 anni e 7 mesi della data dei famosi 66 anni e 7 mesi del pensionamento. Ecco, ma in concreto chi è che può utilizzarla e in che modo? L'Ape Volontaria può essere utilizzata da tutti i lavoratori, sia i lavoratori dipendenti privati che i lavoratori dipendenti pubblici, può essere utilizzata dagli lavoratori autonomi e dalle persone che versano alla gestione separata, cioè le persone che i cosiddetti parasubordinati, i lavoratori parasubordinati. Non può essere utilizzate invece dalle persone che sono i liberi professionisti che versano alle casse private, quindi tutti questi lavoratori possono utilizzarla e accedervi a determinate condizioni. È chiaro che le condizioni per l'accesso sono quelle di avere per forza maturato già il requisito minimo contributivo dei 20 anni richiesto per la pensione di vecchiaia. Ci sono delle leggere differenze sia per quanto riguarda i lavoratori privati che i lavoratori pubblici. I lavoratori pubblici nel momento in cui chiedono di anticipare, quindi chiedono l'Ape, non potranno comunque ottenere subito, se cessano l'attività lavorativa, il trattamento di fine rapporto. Il famoso TFS o TFR dei lavoratori pubblici verrà comunque erogato nel momento in cui il lavoratore pubblico raggiunge l'età della pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda invece i lavoratori privati questo meccanismo non interviene e addirittura l'Ape volontaria dà la possibilità al richiedente di non cessare l'attività lavorativa, quindi di chiedere solamente una parte di quello che è l'Ape volontaria, che consiste chiaramente in, chiamiamolo, un prestito. Questo prestito è parametrato a quello che è l'importo di pensione che il richiedente ha maturato fino a quel momento e sulla base di quello che è il periodo di anticipo della pensione si può avere un importo, una percentuale diversa di pensione richiesta. Passiamo da una richiesta fino al 90% di quello che è l'importo della pensione per chi anticipa di un solo anno, per arrivare fino ad avere il 75% per chi anticipa il massimo di quello che è il periodo utilizzabile come Ape sociale. Ci interrompiamo solo un attimo per fare il punto con Rita Pavan, segretaria generale della CISL Monza Brianza Lecco. Rita Pavan, segretaria generale della CISL Monza Brianza Lecco, negli scorsi giorni si sono tenuti nel capoluogo lariano gli stati generali del welfare. Fra i temi trattati, ovviamente quello del lavoro. Anche lei ha portato un suo contributo in termini di riflessioni e di linee di indirizzo e in particolar modo ha dichiarato che occorre investire di più nelle politiche attive. Cosa significa? Significa che i lavoratori non devono essere lasciati soli quando perdono il posto di lavoro, ma occorrono un forte sforzo per la loro riqualificazione e ricollocazione in altri lavori. Molto spesso, soprattutto per lavoratori di una certa età, perdere il posto di lavoro, magari anche perché si è fatto lo stesso lavoro per tanti anni, significa avere enormi difficoltà. Che cosa bisogna fare allora? Investire, e le politiche attive costano, costano ma bisogna farlo, investire su corsi di formazione, riqualificazione e riconversione e accompagnare il lavoratore che deve anche riprendere fiducia in sé stesso, deve pensare di potercela fare anche se ha perso un posto di lavoro, perché come abbiamo già detto tante volte, perdere il lavoro è sicuramente un dramma, ma non deve diventare una tragedia. Chi deve investire? Ma deve investire soprattutto, diciamo, il pubblico, perché occorre rafforzare i centri per l'impiego, occorre rafforzare chi si occupa di formazione e riqualificazione. Però, per esempio, anche noi come sindacato possiamo fare delle cose, perché ad esempio in un'azienda, quando si ristruttura, molto spesso vengono dati degli incentivi individuali. Si potrebbe anche pensare che questi incentivi individuali devono essere anche collettivi e quindi è l'azienda che ristruttura e che magari espelle dei lavoratori deve mettere delle risorse per poterli riqualificare, un po', per esempio come viene fatto in Francia con i cosiddetti piani sociali. I dati congiunturali ci dicono che il territorio ha agganciato la ripresa, seppur ancora debole, una ripresa che deve essere consolidata. Tuttavia c'è un problema, forse, sul quale non si discute a sufficienza. Vale a dire non solo le aziende che hanno chiuso i battenti o che stanno ancora attraversando una situazione di crisi e quindi rischiano, ma anche quei settori cosiddetti immaturi, cioè le cui produzioni sono destinate per tutta una serie di ragioni ad andare incontro ad una maturità e dunque forse a non avere più prospettive. Perché non si discute a sufficienza di questo tema? Questa è una cosa molto importante. Sono lavoratrici e lavoratori che noi chiamiamo precari per obsolescenza, cioè che lavorano in settori maturi, magari hanno bassa scolarità, hanno iniziato a lavorare parecchi anni fa, hanno sempre fatto lo stesso lavoro, e per questi lavoratori c'è il rischio che anche se sono assunti a tempo indeterminato, magari l'azienda può avere difficoltà e loro rischiano il posto di lavoro e ricollocarsi quando si ha una professionalità medio-bassa è complicato. Allora noi diciamo che va fatto uno sforzo enorme di investimento sulla cosiddetta formazione continua, cioè non è più come un tempo che un momento si studiava, dopo si andava a lavorare finché non si andava in pensione, basta, la scuola era finita. Adesso bisogna continuamente aggiornarsi. Sapere alcune cose, essere più forti professionalmente, può fare la differenza in caso di crisi di ristrutturazione. E quindi questo investimento forte va fatto. Esistono dei fondi che si chiamano fondi interprofessionali, servono proprio per le imprese, per fare formazione. Noi diciamo che questo è un investimento che va sempre più curato, perché la formazione non va fatta solo per i livelli alti, ma va fatta per tutti i lavoratori, perché un'azienda che vuole andare meglio, che vuole produrre meglio, che vuole innovarsi, se non ha dei lavoratori all'altezza ovviamente è in crisi. Quindi questo è importante sia per i lavoratori che per le imprese. Rieccoci in studio, stiamo parlando di Ape Volontaria e vorremmo appunto sapere come fare a richiedere l'Ape Volontaria. La gestione, diciamo così, in totale avviene tutta sul sito Ips. Entrano in gioco non solo comunque l'INS, ma entrano in gioco anche un istituto bancario, un'impresa assicuratrice. Diciamo che l'Ape, essendo un prestito, ha bisogno di determinate garanzie. Le garanzie chiaramente sono fornite dalle imprese assicurative e quindi nel momento in cui si fa la richiesta di Ape sul sito dell'INS verranno anche attivate le coperture finanziarie nel caso in cui ci sia la premorienza chiaramente della persona che ha richiesto l'Ape e di conseguenza entrano in gioco sia le banche che le imprese assicuratrici. La domanda, abbiamo detto, si fa sul sito dell'INS. Ci sono delle procedure telematiche che devono essere attivate e che permetteranno di chiedere la certificazione del diritto. Quindi si parlerà di una doppia procedura. In una prima fase il richiedente dovrà chiedere che vengano certificati i propri requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di conseguenza verrà certificato anche il diritto a poter richiedere l'Ape. Questa è la prima fase dove praticamente il richiedente non dovrà specificare qual è l'istituto di credito a cui fa riferimento. In questa fase l'INS verificherà i requisiti e darà una comunicazione di accoglimento o di digniego della richiesta. Nel momento in cui si avrà l'accoglimento della richiesta si inizierà la fase successiva. La fase successiva consiste nella domanda di Ape vera e propria. Nella domanda di Ape il richiedente dovrà specificare qual è l'istituto di credito a cui si deve appoggiare e qual è l'impresa assicuratrice che chiaramente copre i rischi derivanti dal prestito che deve essere erogato. Una volta fatta questa richiesta entreranno in gioco sia l'INS che l'istituto bancario o l'impresa assicuratrice. Dopodiché l'istituto bancario comunicherà all'INS il piano di ammortamento del prestito eccetera e l'INS comunicherà all'interessato l'accoglimento della domanda di Ape. In contemporanea verrà anche presentata la richiesta di pensione di vecchiaia perché nel momento in cui cesserà l'Ape e quindi arriveremo ai nostri fatidici anni della pensione di vecchiaia ci sarà un passaggio automatico dall'Ape alla pensione di vecchiaia e di conseguenza la domanda di pensione di vecchiaia dovrà essere trasmessa in contemporanea alla richiesta di Ape e di conseguenza una volta che tutto il ciclo sarà concluso il richiedente dovrà accettare chiaramente il formulario del prestito e la richiesta di copertura dalla parte dell'agenzia assicurativa e una volta che tutto questo sarà andato a buon fine entro 30 giorni verrà erogato il prestito dall'istituto di credito quindi dalla banca e l'INS a quel momento lì rientrerà in gioco alla fine di tutto quanto quindi quando ci sarà la pensione di vecchiaia erogata perché dovrà trattenere sulla pensione di vecchiaia le quote di rimborso il rimborso avverrà in 20 anni Ringraziamo molto Norberto per essere stato qui con noi e vi aspettiamo su Zona CISL Grazie a tutti